Preghiera della sera Passione di Cristo, confortami. Oh buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le Tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi mai da Te. Dal maligno nemico difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Fa che io venga a Te a lodarti con tutti i Tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti anche a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodiscimi, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Grazie.